Non si sono fermati neanche davanti alla postazione del 118 ieri. Infatti i ladri hanno portato via i cavi del sistema di alimentazione elettrica. La postazione nella struttura, ridosso l'ex mattatoio comunale, è rimasta così senza corrente. Impossibile svolgere l'attività senza il contatore che consentiva le forniture d'energia. Anche il cancello elettrico della postazione è andato in blackout, bloccata la centralina di smistamento delle chiamate e anche l'erogazione dell'acqua. Un disagio enorme è andato avanti per oltre 12 ore per una postazione fondamentale nei casi di emergenza. I malviventi sarebbero entrati in azione in pieno giorno protetti dalla vegetazione incolta della zona e avrebbero agito sui contatori posti all'ingresso dell'ex mattatoio sul lato opposto rispetto all'entrata delle ambulanze. Qui in pochi minuti hanno fatto piazza pulita di diverse decine di metri di cavi di rame lasciando al buio non solo l'illuminazione pubblica ma anche e soprattutto la centrale operativa. All'inizio gli operatori hanno pensato a una normale interruzione della corrente legata a qualche guasto ma dopo diverse ore hanno allertato la Ghelas che non ha potuto fare altro che constatare il furto. I tecnici della municipalizzata hanno ripristinato l'impianto già questa mattina. Per fortuna nella notte non ci sono state emergenze che con la centrale priva di corrente sarebbe stato complicato poter gestire al meglio. La sede attuale del 118 è di proprietà del comune che è stato immediatamente allertato e ha presentato formale denuncia alle forze dell'ordine che adesso acquisiranno anche le immagini della videosorveglianza della zona. Ieri siamo stati contattati dai responsabili del 118 che ci riferivano di questo furto di cavi e che li hanno lasciati senza energia elettrica. È una cosa gravissima. Già stamattina i nostri tecnici hanno ripristinato la fornitura di energia elettrica però ieri abbiamo lasciato il 118 nelle condizioni e non doveva assolutamente accadere. Un problema quello di ieri che si va a sommare alla carenza di mezzi di soccorso sul territorio con un'unica ambulanza con medico a bordo. Noi già abbiamo anche condannato il fatto che nel nostro territorio e specialmente in questo periodo estivo dove tocchiamo punte di 100.000 abitanti abbiamo solo tre ambulanze. Ne servono sicuramente di più e ovviamente quello che è accaduto ieri fortunatamente non ci sono state delle emergenze tali da poter parlare veramente di altro oggi e quindi ribadiamo innanzitutto questa condanna nei confronti di chi ha operato anche perché non capiamo assolutamente il gesto perché può capitare anche a loro, al loro familiare un'emergenza e trovarsi senza un'ambulanza diciamo adeguata all'intervento.